Una montanara che ha conquistato l'Honduras, Elisa Isoardi è la vera leader dell'isola dei famosi. Naufraghi già l'adorano, il gruppo di Rafinados, a cui la conduttrice 38 anni appartiene, la giudica senza alcun dubbio la migliore di tutti. In merito delle sue capacità organizzative, finora si è data un gran da fare spiaggia. L'Isoardi, nelle prime ore in Honduras, ha lavorato senza sosta, aiutata a costruire la capanna, ad accendere il fuoco e a posizionarlo in modo che non si spenga. Ha pensato anche al cibo. Infaticabile, è diventato un vero punto di riferimento per Acash, Angela Melillo, Drusilla Gucci, il Visconte Ferdinando Guglielmotti e Roberto Ciuffoli. Nessun dubbio, l'Isoardi naufraga piace a tutti.